Numero 4. Questo è un set di 100 bigodini flessibili, disponibili in 5 diverse misure per adattarsi a tutte le lunghezze e tipologie di capelli. Ideali per chi ha capelli folti, questi bigodini presentano delle utili fessure che permettono di applicare facilmente prodotti per capelli durante l'utilizzo. Realizzati in plastica resistente, sono dotati di elastico per una tenuta perfetta. Grazie al loro diametro variabile, è possibile ottenere ricci di diverse dimensioni e stili. Perfetti per chi desidera ottenere acconciature creative senza rovinare i propri capelli. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Will Bond Air Rollers sono la soluzione perfetta per chi desidera avere capelli morbidi e ricci senza sforzi. Con la loro forma a spirale e la loro lunghezza di 25 cm, questi bigodini flessibili sono ideali per chi ha i capelli a caschetto. Sono anche molto facili da usare, basta avvolgere una ciocca di capelli intorno al bigodino e poi fissare con una clip. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che la tenuta non è molto forte, quindi potrebbe essere necessario utilizzare una maggiore quantità di bigodini per ottenere il risultato desiderato. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 2. Questo è un set di bigodini flessibili ideali per chi cerca un prodotto versatile ed efficiente. Grazie alle sue sette diverse misure, è perfetto per tutte le lunghezze di capelli e permette di creare acconciature di ogni tipo senza danneggiare i capelli. Il materiale in spugna dei cilindri garantisce una piega morbida e naturale. Il comodo astuccio con zip incluso rende il set facilmente trasportabile e ideale per viaggi e trasferte. La scheda tecnica mette in risalto la varietà del prodotto, con ben 42 pezzi e il diametro di 12 mm. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 1. Zool Color è un set di bigodini flessibili che garantisce un'asciugatura rapida delle ciocche grazie alla sua struttura cava. Facili da applicare, sono l'ideale per ottenere morbidi ricci senza il bisogno di utilizzare calore dannoso per i capelli. I 12 pezzi in plastica di alta qualità sono resistenti e garantiscono una lunga durata. La tipologia a spirale garantisce una tenuta perfetta sui capelli senza causare fastidiosi segni. Un prodotto affidabile e pratico per avere sempre un look perfetto in pochi gesti. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.